E' stato localizzato all'interno di un appartamento o sito in un comune della Val di Susa, Luca Mazzaferro, 46 anni, di Marina di Gioiosa Ionica, latitante. Una cattura avvenuta all'esito di una mirata attività investigativa, supportata anche dai servizi tecnici dell'intercettazione, coordinata dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria, diretta dal Procuratore Generale Gerardo Dominigiani. Condotta poi dagli investigatori delle squadre mobili di Reggio e Torino e dalla sezione investigativa del commissariato di Siderno. Nella fase finale è poi stata anche supportata dal personale servizio di polizia scientifica. Mazzaferro, lo scorso mese di settembre, era stato condannato in via definitiva nel processo scaturito dall'operazione Circolo Formato del 2010, che aveva consentito, lo ricordiamo, di disarticolare l'omonima cosca d'Indrangheta operante sul versante ionico della provincia di Reggio Calabria, in particolare nel comune di Marina di Gioiosa Ionica. Mazzaferro deve così scontare un residuo di pena di otto anni, nove mesi e nove giorni di reclusione per i reati di associazione mafiosa, truffa, ricettazione e altro. In coincidenza però del pronunciamento della Suprema Corte si era reso irreperibili. Le indagini sono state immediatamente avviate su input della Procura Generale, che aveva emesso l'ordine di carcerazione inizialmente diretta nell'area di origine, spostate poi nei giorni scorsi in Piemonte, dove Mazzaferro da tempo aveva stretto solidi legami. In particolare attraverso mirate accertamenti, sfruttando l'incrocio degli elementi informativi acquisiti, la conoscenza delle dinamiche criminali del territorio, ma anche l'impiego di sofisticate apprecchiature tecniche, il gruppo investigativo è riuscito ad individuare prima l'area in cui Mazzaferro si era certamente recato dopo essersi allontanato dalla zona ionica della Calabria e successivamente l'esatto immobile situato nel comune della Val di Susa. Acquisita la certezza della sua presenza, il personale della polizia ha fatto irruzione, procedendo così alla cattura e traduzione in carcere dello stesso, mentre l'uomo, anche egli di origine calabrese che lo ospitava, è stato deferito all'autorità giudiziaria per il reato di procurata in osservanza di pena.